buongiorno a tutti incominciamo oggi una rubrica sul commento del vangelo domenicale siamo qui con don giovanni che parlo con di argenio ci troviamo in questo momento di schignano ed è anche responsabile della scoglienza in cattedrale di como la prima domenica che prendiamo in considerazione quella del 18 aprile i discepoli secondo il vangelo di luca ritornano da emmaus e incontrano il signore don giovanni buona domenica cari amici il vangelo di oggi non è ambientato tanto sulle splendide rive dell'ario e nella parrocchia tra le più belle del mondo ma è ambientato nel cenacolo quella sala superiore che ha visto pochi giorni fa il compiersi del mistero dell'eucarestia il compiersi e il verificarsi di tanti doni di dio è significativo quello che avviene nel cenacolo e di cui il vangelo ci dà relazione perché siamo chiamati a incontrare il risorto attraverso il riconoscere la grandezza la bellezza dell'eucarestia e siamo chiamati a incontrare il risorto aprendo la nostra mente alla comprensione delle scritture ecco noi riconosciamo Gesù incontriamo Gesù vivo al banchetto dell'eucarestia e nell'ascolto delle scritture vorrei semplicemente tracciare tre piste di riflessione offrire un incipit alla vostra riflessione che poi potete approfondire nella lettura del vangelo il primo siamo davanti a due doni suoi l'eucarestia e le scritture non sono realtà che ci appartengono forse troppe volte crediamo di poterci mettere dinnanzi a questi doni piegandoli a noi secondo noi sono doni per intercettare riconoscere accogliere la sua presenza la sua presenza salvifica il suo amore la seconda pista che possiamo aprire il concilio ecumenico vaticano secondo ci ha insegnato a riconoscerci come la chiesa della parola e dei sacramenti non di una cosa in contrapposizione all'altra siamo la chiesa della parola e dei sacramenti quindi una chiesa che vive dell'intelligenza la chiesa delle scritture le scruta le frequenta permette alle scritture di crescere di manifestarsi una chiesa che celebra che gusta che partecipa attraverso l'eucarestia e gli altri sacramenti al mistero pasquale del risorto la terza prospettiva che possiamo aprire ecco nell'eucarestia e nelle scritture noi non incontriamo un fantasma un'idea neppure un simbolo particolarmente ricco di significato neppure una proposta di vita sociale o di volontariato i sacramenti l'eucarestia e le scritture ci consegnano il crocifisso glorioso e di lui siamo chiamati a diventare testimoni buona domenica a tutti voi grazie